Ben trovati cari amici radioascoltatori per questo nuovo appuntamento della rubrica dedicata alle interviste. Oggi abbiamo non uno ma ben sei graditi ospiti in studio. Si tratta del gruppo della formazione di percussioni Tetractis che questa sera si esibiranno al teatro comunale di Belluno alle 20.45 nell'ambito della stagione organizzata dal circolo culturale bellunese di cui oggi abbiamo qui il presidente, l'avvocato Sandro De Vecchi che vuole portare il suo saluto e introdurre questa intervista anche per mettere in evidenza l'importanza di questo evento, di questa serata in programma appunto per questa sera al comunale. Grazie a lei e all'amico del popolo. Volevo sottolineare come questa sia una serata particolarmente significativa anche per il circolo culturale bellunese perché si distacca un attimo dei nostri programmi abituali. Abbiamo introdotto con questo evento nella nostra città la musica contemporanea, la musica contemporanea o comunque musica giovanissima nel senso della più recente a livello come sempre di eccellenza. Il quarteto Tetractis è un quarteto fermato sulla scena internazionale che partecipa ai più importanti e più significativi concerti in tutto il mondo e col collegamento di tutte le radio più importanti. È interessante ricordare come si tratta di un quartetto di soli strumenti ritmici sostanzialmente, quindi percussioni e come esista una musica per questo tipo di strumenti che spazia dagli Stati Uniti con Reich fino a Solim e fino al maestro Cresta che abbiamo l'onore di avere con noi questa sera e che presenterà una sua opera in prima assoluta proprio della città di Belluno. Grazie. Grazie, grazie a lei, avvocato. Visto che siamo in tanti, quindi stringiamoci pure attorno al microfono, più vicini siete meglio, eh? Prego, prego, avvicinatevi. Intanto, allora, vi presentiamo i componenti del quartetto vocale. Intanto abbiamo qui alla vostra, alla vostra destra Gian Vincenzo Cresta, il compositore che appunto, come ricordava l'avvocato De Vecchi, questa sera presenterà in anteprima il suo, la sua ultima composizione, la sua ultima opera. Abbiamo poi la componente femminile del quartetto, Laura Mancini. Qui vicino a me c'è Leonardo Ramadori, Gianluca Saveri e Gianni Maestrucci. Intanto, partirei subito dal vostro nome, Tetractis. Rimanda, voi me lo avete confermato prima, ve l'ho chiesto per non fare gaff poi durante l'intervista, se vi siete rifatti, avete deciso di rifarvi alla logica pitagorica della successione dei primi quattro numeri naturali, se c'è quindi anche un collegamento con i quattro elementi, fuoco, aria, terra e vento e se tutto questo è un elemento da cui partire per spiegare quella che è la vostra musica, il vostro modo di produrre musica. Chi vuole rispondere avvicinandosi al microfono? Sì, volentieri rispondo. Sì, in realtà questo qui è il nome che ci siamo dati in origine, ce l'ha dato anche un compositore, la nostra fonte ispiratrice che è stato Fernando Sulpizzi, vivente tuttora, è stato nel senso allora ci ha ispirato, che è un padre agostiniano, vice direttore del Conservatorio di Perugia, dal quale tutti e quattro veniamo, quando abbiamo chiesto di darci un nome che ci aiutasse a suonare musica in tre, in quattro, in cinque, in sette persone, lui subito, avendo una grandissima cultura, ha pensato a questo qui, cioè uno più due, più tre, più quattro, uguale dieci, per darci spazio, per poter suonare in formazioni diverse, in quanto il nostro repertorio è un repertorio giovanissimo e quindi spesso ci sono anche brani da suonare appunto in sestetto, in quartetto, in trio, in duo e quindi questo qui già sul piano del numero ci dava una certa, un certo margine, questo è. E quindi voi di nascita siete Umbri quindi, siete tutti e quattro originari dell'Umbria e quanto tempo fa è nata la vostra, la vostra formazione, il vostro quartetto, da quanto tempo vi esibite? Noi ci esibiamo, eccomi, avvicinati. Diciamo che i primi concerti li facciamo intorno al 1992, per cui sono oltre 25 anni che stiamo insieme e che condividiamo emozioni, questa è la cosa che ci fa stare insieme, prima di tutto, condividere emozioni per mezzo della musica. E penso sia fondamentale poi per la buona riuscita del progetto musicale, che ci sia una compattezza anche con voi. E se doveste, diciamo, un po' anticipare i contenuti del concerto di questa sera, cosa devono aspettarsi le persone che verranno ad ascoltarvi? Devono aspettarsi, dovrebbero aspettarsi tanta varietà, perché uno immagina un concerto di solo le percussioni, la prima cosa che uno immagina sono sonorità fragorose, solamente ritmo, no? Perdiamo pezzi, scusate. Invece le percussioni, e questo è anche un contenuto che vogliamo sempre portare con noi, il fatto che le percussioni sono, diceva John Cage, sono illimitate, non infinite. Quindi significa, non solo come, appunto, fonti di suono, io posso suonare qualsiasi oggetto, ovviamente dalla sperimentazione uno capisce che può prendere un qualsiasi oggetto e suonarlo, ma anche come sonorità sono illimitate, nel senso che sentiranno chi verrà, stasera sentiranno sonorità sia, sì, veramente ritmiche, molto forti, ma anche cose molto sottili, dinamiche e melodie dolci, ecco, anche queste cose. Quindi una massima varietà di timbri e di dinamiche e di ritmi, anche perché i pezzi che abbiamo messo, diciamo, in fila in questa scaletta sono molto vari, si passa dal minimalismo fino a una poliritmia più estrema, a cose inedite appena sfornate e in tutto è una tavolozza ricchissima, ecco. Quindi voi spiegavi che si può fare musica con tantissimi strumenti, che anche quando si parla di percussioni non c'è un, diciamo, un range limitato, ma voi usate anche strumenti un po' inconsueti, mi vengono in mente le maracas, guardavo informandomi su di voi, le maracas di vetro. Laura? Assolutamente sì, diciamo che lo strumentario è una delle cose più, che per prime colpiscono lo spettatore che viene ai nostri concerti, che spesso è un neofita nell'argomento e la cosa che stupisce è sempre la nostra scenografia, che in realtà sono i nostri strumenti, anche questa sera sul palco, io credo ci saranno, non li abbiamo contati, ma 90-80 timbri, suoni strumenti differenti, dai più grandi, dalle gran casse o le marimbe a 5 ottave, ai più piccoli, che sono i claves, oppure piccoli scuotimenti. Tra questi, come incennava Gianni, strumenti non strumenti, strumenti anche che andiamo all'interno del nostro percorso di ricerca, che spazia dalla ricerca musicale e compositiva, che facciamo collaborando con compositori e altri musicisti come noi, anche proprio a quella dell'artigianato, dello strumentario. In questo caso, per esempio, le maracas di vetro rientrano in uno dei nostri progetti che riguarda completamente percussione in vetro. Abbiamo collaborato con un'azienda produttrice di strumenti da laboratorio, che lavora il vetro, che appartiene dal nostro territorio, e abbiamo brevettato una serie di strumenti in vetro. Hai visto le maracas? Quindi tutta invenzioni vostre, quindi, brevettate, quindi sono vostre creazioni originali? Diciamo di sì, assolutamente sì. Ovviamente sono poi riprese anche dall'immaginario compositivo del passato. Gong di specchio si vedevano anche in composizioni passate. Il nostro mentore sul Pizzi è stato uno dei primi anche a ricercare in questa direzione. E noi percorriamo anche questa strada, per cui allarghiamo questo ventaglio, che già è molto ampio, ma noi andiamo avanti così. E questa sera quello a cui potranno assistere gli spettatori sarà due eventi in uno, in buona sostanza, perché ci sarà anche la presentazione, la prima esecuzione in assoluto della nuova composizione di Gian Vincenzo Cresta, che è uno dei compositori più attivi della sua generazione. Cosa può anticiparci dell'opera che vedrà questa sera la prima assoluta? Si avvicini pure. Sì, in effetti intanto con quest'opera inizia questa collaborazione con il quartetto Tetractis, che è chiaramente una bella collaborazione, felice, perché c'è stata immediatamente un'intesa sul piano musicale della condivisione delle idee. E la scrittura di un brano per percussioni è complessa, proprio per le cose che abbiamo detto sinora, cioè la pluralità dei timbri, e soprattutto perché le percussioni possono emettere suoni diversi a seconda di come vengono poi suonate. Quindi c'è una varietà infinita. Quindi la sfida era l'indagine sul dettaglio, ma in particolare questa opera, Entanglement, appunto si rifà a quella che è la cosiddettazione fantasma, che è un fenomeno che si verifica nella meccanica quantistica. Molto semplicemente io ho creato delle reazioni. Ogni percussionista è una particella che entra in vibrazione, entra in rapporto con le altre particelle. Quindi questa composizione è una sorta di organismo che si muove e quindi poi va naturalmente a suscitare emozioni nel senso che parla alle strutture emotive. Perché la musica fa questo in fondo, parla alle strutture emotive, che è altra cosa dai brividi. E quindi stasera c'è la condivisione intanto col quartetto e poi col punto del pubblico di questo cammino di ricerca intorno alla musica, intorno ai suoni. Bello, grazie, grazie. Quindi questa sera si metteranno insieme tantissime discipline differenti perché non c'è solo la musica, c'è la filosofia, c'è la fisica quantistica, ci sono le emozioni, quindi sarà sicuramente uno spettacolo da non perdere. E tra l'altro il vostro quartetto è uno dei pochi, se non l'unico in Italia, che porta avanti anche attività didattica, laboratori didattici. Ho visto anche dei video molto molto belli sul vostro lavoro. Le portate anche nelle scuole con i bambini più giovani? Assolutamente, la divulgazione è stata assolutamente fin da sempre una delle nostre carte vincenti per il fatto che far conoscere questi strumenti, cioè tutti quanti quando vedono la nostra marimba grande dicono subito, ah quello è uno xilofono, e invece no, è una marimba. Cioè ci sono tante varietà dei nostri strumenti che i più piccoli, noi stessi quando siamo entrati in conservatorio nei fine anni 80, prima anni 90, venivamo spesso dalla batteria o comunque sia da quello strumento, da quell'immaginario, e poi abbiamo incontrato tutto un mondo sterminato. Quindi divulgare per noi è fondamentale, lo facciamo molto spesso. Durante l'anno facciamo almeno una ventina di appuntamenti con le scolaresche, con le scuole, proprio per raccontare quello che è la percussione. Nelle scuole di Belluno mai finora, vero? Potrebbe essere questa l'occasione per magari lanciare un invito, se qualche scuola bellunese, visto che abbiamo anche l'indirizzo delle scuole medie musicale, il liceo musicale, potrebbe essere qualcosa di simpatico. Magari chi ci ascolta sapete che c'è questa bellissima opportunità. Che sensazione avete fra i più giovani? C'è ancora sensibilità nei confronti della musica? Perché è faticoso avvicinare le nuove generazioni? Penso che col vostro modo di fare sicuramente voi riuscite a catturare... Allora, dipende dall'età dei giovani, no? Fino a un certo punto della crescita il giovane comunque è ancora puro nel suo pensiero e diciamo neanche molto influenzato dai media o da chissà cos'altro. Per cui, come diceva Gian Vincenzo, essendo il messaggio quello della musica che è rivolto al sentimento, alla sensazione di cura, ecco, quello arriva perché la musica ha questo potere a prescindere da noi, da tutto, no? È proprio un'entità superiore che ci arriva a tutti noi esseri umani, questa è la magia, no? Per cui il bambino la percepisce bene. Chiaramente nel momento in cui ci rivolgiamo a studenti più grandi, quindi già con delle idee, con un background diverso, il linguaggio che dobbiamo proporre sicuramente deve essere adeguato a quel target perché altrimenti non riusciamo più a metterci in sintonia. Questo è un po' il lavoro che facciamo, ma con le percussioni diventa facile perché comunque è uno strumento estremamente vicino. Diciamo sempre ai ragazzi che il primo strumento che è nato, che fa nascere la vita, comunque è la percussione, il cuore che batte è la vita, no? E' uno dei giochi che fanno i bambini spesso da piccoli anche quello di usare il tamburello, di battere sul tamburello. Quello è l'istinto. E' l'istinto. Sì, ricordo. Per cui ecco, il lavoro lo dobbiamo diversificare scientemente perché i referenti devono essere in qualche modo presi per mano e poi portati nel nostro mondo. Certo, certo. E' la questione anche all'alfabetizzazione, no? Perché la musica mentre in certe culture del passato, anche remoto, la musica era strutturale nell'educazione, la parola, il numero, la musica, invece nel nostro ordinamento è un po' carente questo aspetto qua e di conseguenza, diciamo, la funzione delle associazioni come quella che ci ha invitato qui o anche in tanti altri posti d'Italia è anche quello di supplire a questa carenza perché altrimenti rischiamo nuove generazioni analfabete dal punto di vista musicale. Invece in questa maniera lanciando qualche semino sicuramente qualcosa cresce. Perfetto. Se manca la musica ovviamente non viene curato la persona, il sentimento, questo è una delle cose fondamentali. Certo, certo. E la collaborazione con Cresta continuerà da quel che mi pare di capire? Avete già in mente successivi progetti? C'è qualcosa in corso di lavorazione? Beh, con Cresta abbiamo un grande progetto che prima o poi, anzi più prima che poi, realizzeremo che è appunto basato sui quattro elementi, aria, acqua, terra e fuoco. Però, essendo quello un progetto piuttosto grande, andremo a realizzarlo partendo dai piccoli passi che facciamo ora, che poi tanto piccoli non sono. E beh, infatti, infatti. Laura vuoi dire ancora qualcosa? Ma io semplicemente inviterei ancora i vostri ascoltatori a venire questa sera per sicuramente spinti dalla curiosità. Tra l'altro ci sono ancora posti disponibili, immagino, non è tutto esaurito già? Credo che ancora ci sia possibilità, credo di sì. Vorrei dire loro che assisteranno uno spettacolo e non si aspettano. Perché la reazione del pubblico è... ormai sono tanti anni che portiamo in giro diversi programmi, ma comunque questo è il nostro modo di fare la musica e l'inviterei perché sarà una bella serata. Ok, confermate Gian Vincenzo e Gianni? Non credevo. Non credevo. Questa è la fase che domani non credevo. C'è da dire che il palco è completamente ricoperto di strumenti a percussioni. Bellissimo. Ci sono oltre 20 leggii e solo quattro esecutori. E questo è un po' diciamo l'impatto... Il primo enigma. Il primo enigma. Oltre 20 leggii e solo quattro esecutori per un palco completamente coperto di strumenti a percussioni. Quindi dovrete anche saltare da una parte all'altra. Quindi c'è anche la ginnastica oltre alla musica. Multidisciplinare. Sì, multidisciplinare la serata. Senz'altro. Va bene. Allora noi vi ringraziamo infinitamente per essere stati qui. Grazie al compositore, grazie al quartetto Tetractis. È stato un piacere avervi nei nostri studi. Speriamo che possiate anche... decidiate di tornare a Belluno e in quel caso torniate anche qui nei nostri studi. In bocca al lupo per questa sera. Vi lasciamo adesso perché immagino avrete un pomeriggio di prove e di preparativi. Quindi vi lasciamo andare a lavorare. Grazie. Per chi fosse interessato a sapere, ad avere informazioni in più sul concerto sa che può consultare il sito internet del Circolo Culturale Bellunese. Ricordiamo l'appuntamento da segnare è questa sera Teatro Comunale di Belluno 20 e 45. Grazie mille ancora ai nostri ospiti. Grazie a voi. A presto e grazie a tutti per l'ascolto. Ci rivediamo al prossimo appuntamento. Grazie.